E' stato trovato morto Andrea Dall'Oglio, il 57enne, nato a Cagliari, residente a Pordenone. L'uomo era scomparso da mercoledì, secondo le prime ricostruzioni, era uscito dalla propria abitazione martedì sera e da quel momento si erano perse le sue tracce ieri. La tragica scoperta, il corpo è stato rinvenuto nell'adetto del parco di San Valentino, dai vigili del fuoco. Grazie a tutti.